Sono un po' in difficoltà perché sinceramente gli interventi dei consiglieri che mi hanno preceduto mi lasciano molto perplesso. Mi dispiace da un lato, dall'altro finalmente viene a decadere la presunta superiorità e preparazione dell'amministrazione precedente perché il Movimento 5 Stelle è stato sempre tacciato di essere un movimento giovane e penso non ci sia nulla di male, un movimento in quanto giovane impreparato. L'impreparato non vuol dire che è impreparato tecnicamente, politicamente, a parte che ci sono gli uffici competenti, dei quali sia io che la Presidente Guadagno ci siamo avvalsi della loro competenza per poter verificare il regolamento che avevamo creato. Si sono dette però una serie di falsità che però devo smentire. Il regolamento del consigliere Corsetti è un regolamento completamente differente dal nostro. L'abbiamo già detto in occasione della sua pluribocciatura, bocciatura in aula, bocciatura da parte del Dipartimento, bocciatura da parte dei Municipi. Il regolamento di partenza del consigliere Corsetti aveva grandi differenze con il regolamento nostro, anche come elenco di articoli, come numero di articoli, come sanzioni previste, come punteggi. Allora, entriamo nel merito e nel dettaglio. Il consigliere Corsetti prevedeva un albo e una prova per ogni municipio. A noi è sembrato quantomeno dispersivo. Noi vogliamo che innanzitutto ci sia una commissione tecnica di livello che possa intervenire, ma per rispondere anche alla consigliera Celli, una prova aperta al pubblico in cui tutti si possono rendere conto della evidenza evidentemente di capacità, quantomeno per la sufficienza. Perché il nostro regolamento prevede che se una persona non è sufficientemente preparata e non supera un punteggio di sei punti su dieci alla prova pratica, non viene ammessa, non va avanti. Perché per noi interessano i veri pittori. Allora, le persone che vanno a Piazza Namona oggi possono guardare le opere che ci sono e forse si rendono conto, anche senza essere esperti, se sono venduti dei poster, cosa che succede molto spesso, piuttosto che delle vere opere. E allora ci dovremmo chiedere, perché chi ha permesso tutto questo? Allora, il regolamento vigente è il regolamento 14 del primo municipio. Il commissario consigliere Corsetti è intervenuto su una mancanza del primo municipio, su una mancanza del primo municipio che non ha rivisto il regolamento, non ha rimesso a bando, non ha fatto nulla, ha lasciato le cose come stavano. Noi, in parallelo, abbiamo fatto un regolamento che invece pensi a tutta la città. Pensiamo a diffondere la cultura in tutta la città perché non devono esistere un centro e delle periferie. La cultura va portata ovunque. Non devono esistere solamente dei criteri di anzianità o dei curriculum, perché esistono bravissimi artisti che si sono formati come autodidatti, anche senza avere diplomi. Poi, se uno è bravo e ha anche diplomi, sicuramente andrà più avanti di uno che non è bravo e che non ha i diplomi, o di uno che è bravo e non ha i diplomi. Perché da 0 a 7 punti si prende per la prova artistica, da 0 a 3 punti per i titoli e il curriculum. Respingiamo al mittente quindi queste indicazioni per quanto riguarda poi gli emendamenti che il consigliere Corsetti aveva detto giustamente di avere portato in consiglio durante la discussione della sua deliberazione. lui ha portato due emendamenti che ricalcavano solo in parte e riportavano il suo regolamento verso il nostro regolamento. Stranamente mancava questa parte che per noi è fondamentale del punteggio e dello sbarramento. Lo sbarramento non c'era. Per noi è preponderante questa cosa. Abbiamo lavorato, abbiamo detto anche, l'ha detto il vice sindaco, con il commissario d'acta perché comunque ci ritenevamo che dovesse essere una decisione portata avanti nel rispetto delle decisioni del TAR. Cosa dire? Non saranno nove mesi perché nell'emendamento che abbiamo visto abbiamo ridotto ulteriormente i tempi. Quindi ci sono due mesi di tempo, scusate, quattro mesi di tempo da parte dei municipi per identificare le aree e due mesi poi per fare la procedura di avvio di selezione pubblica. Noi riteniamo che ci siano differenze fondamentali. Vogliamo metterci a rispondere veramente per richiamare, insomma, anche simpatica la digressione del consigliere Corsetti su paralleli scolastici, dei copioni, copioni con i cori dietro di qualche altro consigliere. Però siamo in un'aula consigliare, cerchiamo di fare regolamenti seri, cerchiamo di andare avanti con preparazione e dimostriamola nei fatti, non solo a parole. Grazie.